Come completare il secondo set di Lorcana? Quanti passaggi saranno richiesti? E quali tipologie di carte faranno parte della raccolta? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale, il secondo capitolo del marchio targato Disney ha fatto la sua comparsa sugli scaffali delle fumetterie sparse sul territorio nazionale, portando alla luce nuovi personaggi che hanno arricchito ancora di più la base già florida presente nel primo atto di Lorcana. Come per il set che ha dato il via a questo titolo, anche il secondo sarà composto da ben 204 elementi. Si sta parlando della versione regolare, ovviamente, Enchanted e Escruse, ed ognuna avrà, per chi sarà intenzionato a collezionare il master set, una rispettiva controparte foil da custodire nella propria raccolta. Nei giorni scorsi ho aperto in una live, che potrete trovare nella scheda appena apparsa in questo momento, due box inviatimi dai signori di Fantasia Store, nei quali ho trovato tutto il necessario che mi ha permesso, dal termine della diretta ad un paio di giorni, di completare l'intero set regolare di Rise of the Fallborn in soli due passaggi. E sarà proprio in questo video, infatti, che vi mostrerò come, da zero, sono riuscito personalmente a chiudere un'espansione da più di 200 carte. Signori, dalle statistiche di YouTube ho notato che, in media, il 77% di chi guarda i miei video non è ancora iscritto al canale. Pensate che, se solo la metà decidesse di supportare il progetto, si raggiungerebbero i 10.000 iscritti in pochissimo tempo. Perciò, datemi una mano, se ancora non siete iscritti, basta un click. Per voi è un semplice gesto, ma per me è di grande aiuto. Grazie per il supporto. Torniamo al video. Ed ora scopriamo assieme come completare Rise of the Fallborn, il secondo set di Lorcana, in soli due step. Andiamo a dargli un'occhiata. Come già accennato, al termine della live tenutasi in data 4 gennaio, il resoconto finale è stato di 8 leggendarie, 4 per box, tutte le superrare assieme alla completezza delle rare non comuni e comuni. Quindi, partendo letteralmente da nessuna carta in mio possesso, la situazione è stata la seguente. Per completare l'opera mancavano all'appello 4 singole carte. Snow White, Wellwisher, Fairy Grandmother, Mystic Armorer, Scar, Victious Cheater e Naamari, Morning Mist. Ora, vorrei anticipare questo aspetto. Sono stato molto fortunato nella sbustata. Perché? È vero che non ho trovato Enchanted durante la live, ma allo stesso tempo non ho ottenuto alcun doppione per le leggendarie, e questo mi ha portato di molto avanti nel processo di ottenimento di ogni singolo elemento presente nell'espansione, calcolando che, di 12, me ne sono procurate 8, fattore non da sottovalutare. In più, tutte e 18 le superrare, le 48 rare e le 126 tra non comuni e comuni sono rientrate, formando una base di partenza davvero molto forte che mi ha permesso così di concludere l'intera raccolta attraverso il prossimo passaggio, il secondo ed anche ultimo. Una volta fatto il punto della situazione, quindi mi sono recato immediatamente sul sito Fantasia Store, dove nella sezione delle singole ho ricercato le quattro leggendarie mancanti, ordinandole subito dopo. E come al solito, in 24 ore il pacco è arrivato a casa, assieme a diversi altri articoli. Ve li mostrerò in dei contenuti futuri. E dopo aver aperto la scatola, finalmente sono riuscito ad inserire anche le ultime quattro unità all'interno delle tasche dell'album, completando dalla numero 1 alla 204 la versione regolare del secondo set di Lorcana, Rise of the Floatborn. Quindi, ricapitolando, i passaggi sono stati i seguenti. Spacchettare due box e recuperare le carte mancanti. Una cosa comunque ho notato. Mi è sembrato come se il pull rate delle carte sia stato leggermente aumentato in questa espansione, così da dare la possibilità a quanti più collezionisti possibili di completare la propria raccolta nel minor tempo a disposizione. Ma, magari è stata solamente una mia impressione. Fatemi sapere nei commenti se anche a voi ha dato questa idea. Come sempre, in descrizione vi lascerò i link a tutti i prodotti del TCG targato Disney, così da recuperare anche il primo capitolo se ve lo siete perso e, anche se avrete intenzione di iniziare a giocare a questo GCC, dalle dinamiche semplici ed intuitive al fianco degli eroi della vostra infanzia, testando con mano le dinamiche che, sono sicuro, vi divertiranno. E a proposito di ciò, sempre in descrizione vi lascerò anche i link alla sezione singole, così da recuperare ogni singola carta che vi mancherà per completare il deck che vi vedrà protagonisti nei local della vostra zona. Non conoscete il regolamento? Nessuna paura, basterà cliccare nella scheda appena apparsa in questo momento per imparare in meno di 20 minuti ogni meccanica di base. L'Orcana di certo è un titolo che, nello scorso anno, ha registrato numeri da record e in questo 2024 ha già in programma un terzo set con rispettivi prodotti satelliti, la traduzione nella lingua italiana e molte altre novità che vi attendono oltre le nebbie del tempo. Chissà quali altri personaggi si uniranno alla festa? Solo il tempo e la casa madre potranno darci una risposta. E voi avete già completato il secondo set? Ed in che modo siete arrivati a collezionare tutte le carte? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.